La storia inizia con il trasferimento della famiglia Sanderly, composta dalla madre, Murphy, il fratellino, Howard, lo zio, Miles, il padre, Reverendo e la protagonista, Faith. Faith era una ragazza curiosa e molto intelligente, anche se nessuno ammirava le sue doti soltanto perché era femmina. Ma è grazie alla sua intelligenza e astuzia che scopre il grande segreto del padre, che l'aiuterà a trovare l'assassino. La sua indagine cominciò con la morte del padre. Chi sarà stato l'assassino? Jane, la domestica quasi licenziata Agatha, la moglie di Lambert Clyde, il fotografo Miles, il cognato che voleva ottenere le sue terre Crack, l'aiutante Lambert, il capo degli scavi Jacques Lerz, il dottore Poi una notte, Faith scoprì il segreto del padre Zio Miles, ma perché siamo qui? È tutto per un buon fine Un ottimo fine Che cosa hai fatto? Mi hanno promesso che avrei potuto prendere parte agli scavi Ci hai usato Ci hai portato qui per un tuo profitto Volevi solo unirti agli scavi Perché volevano che portassi mio padre, eh? Questo libro all'inizio mi è sembrato un po' noioso Ma andando avanti è iniziato a piacermi E il finale mi ha convolto molto Questo libro lo consigliamo alle persone che amo leggere Perché è un lessico molto difficile E perché la storia è difficile da studiare Dato che ci sono molti personaggi da ricordare E ci si potrebbe confondere Questo era l'albero delle bugie Se vi è piaciuto vi consigliamo di prenderlo Grazie a tutti Grazie a tutti